Non devi montare solo quando lo fai No 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 Campo della dominante di Monza Devo fare sta cazzo di traversa prima di iniziare la partita Pallone nuovo dell'Inter Quindi ragazzi Questo pesa diverso da tutti gli altri Potrebbe essere anche che non viene al primo colpo Però io ci credo Porca puttana che piedi ragazzi Anche nonostante le avversità E rompi palle